...coscente, Vilma Moronese, il deputato, quando è un figlio, discente ma ancora più poco, e i consiglieri regionali, Vincenzo Miglione, che tanto si sbaglia per questa terra, e una busta per farlo in sezione. In la vostra sede, una busta che un mio attivista gentilmente ha preparato, dentro abbiamo messo il programma, i 20 famosi punti per la qualità di vita degli italiani. Allora, i programmi molto spesso sono libri dei sogni, perché il giorno dopo, ve lo dico per esperienza, ma lo sapete meglio di me, questi libri dei sogni restano nel cassetto e non vengono mai attuali. I nostri programmi sono, è un programma condiviso, partecipato dai cittadini, vi invito a leggerlo e vi invito anche per alcune date che poi vi faremo sapere, perché abbiamo intenzione in questa sede di spiegarvi punto per punto. Vi anticipo già che sabato prossimo la nostra avvocata, Antimino e Di Matteo, ci spiegherà che cos'è questo famoso rosatello, che cos'è la legge elettorale, una legge elettorale studiata a tavolino per fare fuori il Movimento 5 Stelle. Quindi io vi saluto e passo la parola ai miei ospiti, vi raccomando, ci tengo moltissimo a questo aspetto, informatevi, andate alle fonti, non vi fermate alla Repubblica, ai vari giornali, leggete vari giornali e i siti dove si possono vedere gli atti, i documenti, solo così potete avere la speranza di sapere la realtà. Grazie a tutti.